Musica Cari telespettatori ben ritrovati, quest'oggi parliamo di sicurezza stradale in un tratto molto importante, significativo, un nodo viario strategico per tutta l'Italia, non solo per il nord-est, dove purtroppo ci sono diversi incidenti legati anche a delle attività che sono in corso per carità, ma soprattutto l'incidentalità come avviene di frequente è dovuta anche al fattore distrazione, alla stanchezza, tanti elementi che entrano in gioco. Per parlare di questo c'è una campagna che tra l'altro è stata anche attuata e organizzata, abbiamo due ospiti e quindi entreremo anche nel merito specifico. Abbiamo piacere di avere qui con noi in studio l'Avvocato Maurizio Paniz, Presidente di Autovie Venete, grazie Presidente di essere qui con noi, e Michele Varotto, Presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto, grazie anche a lei Presidente, che rappresenta i tantissimi autotrasportatori che attraversano questa tratta in modo particolare. Autovie Venete, ma ci spiegherà bene il Presidente di quale si tratta, qual è la zona di vostra copertura. Nello specifico Autovie Venete con Confartigianato Imprese del Veneto hanno promosso questa iniziativa di sensibilizzazione di informazione sulla sicurezza e non è, con uno spot per carità, ma non è un'opera così semplice, Presidente. Perché? Non è un'opera così semplice perché purtroppo tutti pensano che la sicurezza dipenda dagli altri e invece la sicurezza dipende da noi stessi, dipende dall'utente prima di tutto. Si possono porre in essere tutte le opere più significative per garantire al meglio la sicurezza stradale, ma poi se l'utente si distrae con il telefonino, se si distrae con il televisore, se si distrae in mille altri modi, evidentemente i risultati possono qualche volta diventare letali. E questo è l'obiettivo che ci si ripromette, fare in modo che l'utente capisca che quando guida deve pensare solo a guidare. Eh, dirlo, stiamo vedendo anche delle immagini significative, seguitele anche con attenzione perché vi fanno capire delle dinamiche che ai noi cari telespettatori tante volte incappiamo in questa distrazione. Presidente, perché tante volte sono con causa o coinvolti negli incidenti soprattutto gli autotrasportatori, i mezzi pesanti? Per un fattore di stanchezza, di mezzi obsoleti, soprattutto quelli che magari non sono italiani, vengono anche da altri paesi, la distrazione in sé per sé, in questo caso qua la distrazione viene mostrata a un automobilista non su mezzo pesante, però quando questi mezzi sono coinvolti il disastro è pesantissimo. Allora, diciamo che la distrazione non è l'unica causa degli incidenti, però è quella principale. Gli autotrasportatori o i mezzi pesanti incidono su questi incidenti perché hanno un'apparenza molto grande, come dico, ma in mezzo, quindi occupano molto tratto stradale. Però voglio dire che comunque anche l'automezzo pesante, noi abbiamo delle regole molto importanti sulla sicurezza, quindi sui tempi di guida, sui tempi di riposo, sul sistema di consegne e siamo dei professionisti della strada. Le maggiori cause comunque vengono causate dalla distrazione di telefonini, dalle auto e poi automaticamente i mezzi pesanti essendo una buona percentuale di transito sull'autostrada vengono coinvolti. dati dimostrano che anche comunque su questa tratta e su altre tratte gli incidenti di mezzi pesanti sono diminuiti negli ultimi cinque anni. C'è stato anche un calo ponderale del traffico veicolare per un paio d'anni? Sì, ma anche quando è ripreso c'è stato un calo degli incidenti sui mezzi pesanti. Sicuramente quando succede un micro incidente, un piccolo incidente, perché non dobbiamo vedere solo l'incidente grosso, ci sono tanti altri incidenti, i tempi di ripristo dell'autostrada non è semplice, sia che ci siano i lavori, sia che non ci siano i lavori. Ecco, allora entriamo nel merito specifico, Presidente Paniz. La sua competenza riguarda che cosa? Quindi Autovie Venete di quale tratto autostradale si occupa? Autovie Venete gestisce le autostrade del nord-est, da Venezia verso Trieste, da Venezia fino al Bivio per Udine, dal Porto Gruaro al Bivio per Conegliano e l'aggancio con l'autostrada che porta verso Belluno. Quindi questi tratti autostradali più le opere con termini, comprese quelle che portano fino ai confini dell'Italia verso la Slovenia. C'è un traffico veicolare molto importante, molto significativo, vero? Beh, guardi, questa è una porta di accesso all'Italia di straordinaria importanza. Oggi viaggiamo quasi a 50 milioni di veicoli annui, poco meno. È un record che stiamo raggiungendo quest'anno, dopo aver trovato nel 2019 il massimo dell'utenza possibile. Ogni giorno transito in autostrada in tempi normali circa 230 mila veicoli che possono diventare anche di più in momenti di punta, come quando ci sono le feste vicine, i fini di settimana, l'estate, eccetera. Quindi chiunque capisce cosa vuol dire avere questa massa enorme di veicoli che arrivano soprattutto da tutti i paesi dell'est e questo rende più problematica la necessità di utilizzare criteri informativi che possono essere facilmente percepibili da tutti. Nei primi tre mesi di quest'anno abbiamo un indice di quasi 7% in più rispetto al momento di massimo traffico che si era verificato prima della pandemia. 7% è tanto? È comunque abbastanza. È un indice molto significativo. C'è un aumento molto importante anche del traffico pesante che è aumentato di circa il 3-4% e poi sono significative le uscite nei territori verso il mare quindi i caselli di uscita verso Lignano, Bibione, Caorle e Esolo rappresentano dei punti di attenzione molto significativi. Peraltro dobbiamo anche dire che Autovie si è mossa per tempo ha rispettato in maniera rigorosa le tempistiche che erano state ideate a livello di vertice ministeriale nel 2001 e confermate nel 2005 con l'assenso di tutti, regioni, comuni, eccetera. I tempi sono stati rigorosamente rispettati. Perché cosa? Tempistiche per? Prego. Tempistiche per che cosa? Tempistiche per la realizzazione soprattutto della terza corsia. Perfetto. Noi abbiamo ormai operato in maniera molto concreta lavori molto significativi che sono stati consegnati tutti in anticipo negli ultimi anni rispetto ai tempi che erano stati previsti. Pensate che anche questo lavoro che è in corso attualmente di circa 9 km da Porto Gruaro o dal Visopoli che per contratto dovremo consegnare a fine del 2023 sicuramente consegneremo all'inizio dell'estate o comunque nel corso dell'estate quindi in anticipo. Siamo in anticipo anche sui lavori dei 24 km che mancano ancora di terza corsia da San Donato, San Stino a Porto Gruaro perché dovremmo per contratto operare dal 2024 al 2027 in realtà già dall'anno scorso abbiamo iniziato a costruire una decina di calo e cavia che sono le opere più significative e abbiamo sviluppato le procedure di esproprio che sono in corso quindi l'anticipo è molto significativo grazie alla collaborazione dobbiamo dirlo dei Presidenti delle Regioni Veneto e Fruli che ci hanno consentito alcune anticipazioni. Ricordiamoci due cose primo che l'autovie è l'unica autostrada in Italia che non vive di denaro pubblico ma vive solo dei proventi dei pedaggi quindi solo con i proventi dei pedaggi noi riusciamo a fare tutto quello che stiamo costruendo e che è stato fatto di recente non solo Autovie ha edificato un ponte il ponte sul tagliamento che è una risorsa importantissima dal punto di vista dell'immagine nel tratto autostradale è lungo il doppio rispetto al ponte di Genova e ha costato la metà quindi ci si rende perfettamente conto anche di quelle sono state le economie di scala che hanno caratterizzato l'attività in questi ultimi anni. Quali sono le maggiori criticità che avete state incontrando che avete incontrato a lei accennato al discorso degli spropri le abbiamo vissute anche in passato quando si parlavano del passante di Mestre tanto che è vero che mi sono in virtù di un intervento di un commissario straordinario sono stati accelerati ricordiamo insomma sempre La cosa più difficile è continuare a costruire mentre il traffico scorre sono pochissime le occasioni di chiusura che abbiamo dovuto imporre quando vengono lanciati determinati passaggi sopra l'autostrada ma proprio pochissime perché normalmente i lavori si fanno con il traffico che continua a scorrere immaginate cosa vuol dire lavorare con 200.000 veicoli che passano in ogni giornata nella gran parte durante il giorno ma anche durante la notte noi chiudiamo dopo aver fatto valutazioni molto significative sulle tempistiche più opportune in genere nelle giornate che sono meno trafficate proprio il sabato notte dalle 10 di sera alle 6 del mattino eccetera per poter fare alcune opere che sono essenziali questo è il momento più critico ma il momento più critico lo possiamo avere anche ogni giorno se gli utenti non collaborano perché purtroppo nonostante le straordinarie misure che sono state messe in atto pensiamo che l'autostrada è praticamente totalmente monitorata che siamo in grado di intervenire immediatamente se ci sono sinistri ci sono perdite di carichi cose di questo genere nonostante tutto questo purtroppo non basta qualche incidente si verifica lo stesso e mi spiace dirlo ma praticamente tutti gli incidenti sono causati dalla distrazione degli utenti non si può dire che la responsabilità sia oggettiva della sede stradale perché le informazioni ci sono tutte variabili e fisse ma se l'utente guarda il telefonino se addirittura come succede per alcuni camionisti guarda il televisore e continua a controllarlo mentre scorre e noi di tutto questo abbiamo le prove attraverso le immagini delle videocamere che ci consentono di monitorare tutta l'autostrada e addirittura di alcuni flash che abbiamo potuto costruire in osservazione attraverso delle sopraelevazioni che abbiamo effettuato a bordi autostradali proprio per controllare quello che succede nelle cabine degli automezzi pesanti e se ci sono queste distrazioni diventa difficile poter evitare poi alcuni sinistri e dobbiamo dire che la grandissima parte pur essendo in numero più contenuto rispetto ad anni fa e con una diminuzione significativa certamente dove c'è la terza corsia dipendono in gran parte dalle distrazioni degli utenti e allora Presidente lei rappresenta una categoria che per lavoro non è dolente e là deve transitare perché altrimenti sarebbe un disastro quando appunto si verificano degli incidenti pesanti che bisogna uscire prima vediamo quello che succede nel tratto ovviamente della strada invece che è provinciale o quant'altro allora perché questo fattore da che cosa è dovuto e lì come si potrebbe intervenire perché si sensibilizzare giusto porre l'attenzione tutto quello che si vuole però quando si è là tante ore sul proprio mezzo noi siamo i gestori loro sono i gestori e noi siamo gli utilizzatori dell'autostrada professioni e professionali quindi era un'autostrada sottodimensionata per il traffico che aveva quindi i tempi di realizzazione dal 2001 al 2023 hanno rispettato tutti i parametri termini che erano stati che avevano previsto però noi speravamo che i tempi fossero un po' più corti sull'utilizzazione perché non solo la distrazione ma anche tutta una serie di prerogative di sistemi può aumentare l'incidente perché quando c'è ci sono dei lavori in corso ci sono una marea di variabili che possono intervenire sull'incidente ma io direi che questo non è una cosa da sottolineare andare avanti perché il nostro discorso che siamo venuti per la sicurezza ci ha fatto molto piacere che comunque Autovie ci abbia interpellato per questo coinvolto per questo spot perché loro essendo i gestori e noi utilizzatori scambiandoci idee e interlocutando possiamo come dire darle le nostre idee loro le possono prendere anche perché parlando con il loro direttore comunque delle cose che abbiamo dette le stanno facendo o le faranno perché hanno detto che hanno raddoppiato i tabelloni di segnalazione dei lavori in corso che è una cosa molto importante i limiti di velocità e tutte le informazioni che ci sono bisogno per ridurre questi incidenti io credo che lanciando il messaggio e facendo anche questo spot che è molto duro e molto crudo e ha ragione quando non si sta attenti alla strada ci vuole un secondo per perdere la vita perché una vita in meno è una cosa fatta i tempi di realizzazione anche della Portuguaro mi fa piacere che hanno accelerato hanno cominciato prima parlavamo in un altro tavolo anche con Panis aveva già accennato se c'è bisogno di una quarta corsia già mettete in moto che ci sia la possibilità nei tempi futuri perché non si sa se il traffico aumenta diminuisce o come va quindi questo interfacciarsi con le categorie e i gestori per conto mio è una cosa molto importante perché dal 2001 al 2023 i tempi sono stati molto lunghi noi ci siamo ogni giorno e continuo a dire che comunque noi abbiamo bisogno di aree di sosta abbiamo bisogno di riposare abbiamo dei sistemi di sicurezza molto alti perché siamo l'unica categoria che quando non riposiamo veniamo tassati ci danno le multe se non riposiamo abbiamo i tempi di guida quindi abbiamo aumentato il nostro livello di sicurezza e si vede anche sui dati degli incidenti certo torniamo su questi aspetti perché è molto interessante anche come accennava lei Presidente dovrò chiedere anche al Presidente Panis il discorso dei luoghi di sosta mi ricordo ancora in tempi passati però non erano comunque 20 anni fa che di questi molti della categoria lamentavano appunto spazi non sufficienti di sosta quindi vediamo se qualcosa è cambiato nel frattempo pubblicità a pochi secondi potremmo insieme